Princess Anne ha fatto fuggire dalla stanza la principessa Diana dopo uno scambio imbarazzante e gelido. Un autore precedentemente rivelato, Anne è ampiamente conosciuta come il membro più laborioso della famiglia reale. Viene regolarmente avvistata in paesi e città di tutto il paese e all'estero mentre apre edifici e fa visite ufficiali. Attualmente, si pensa che la Princess Royal sia coinvolta in oltre 200 enti di beneficenza e organizzazioni in veste ufficiale. Questo è paragonato ai 30 circa a cui il principe William futuro re del Regno Unito è collegato. Così impegnata nel lavoro e nelle responsabilità che derivano dai reali, Anne era leggermente scossa nell'accogliere di Anne e Sarah Ferguson nell'ovilè reale negli anni 80. La coppia era completamente diversa da qualsiasi cosa lo studio avesse mai sperimentato e presto avrebbe cambiato per sempre il volto della famiglia. Non una persona che trita parole e pensieri su cose e persone, si dice che Anne abbia preso immediatamente in antipatia Diana. Eppure, Diana ne era più che consapevole e in più di un'occasione ha tentato di costruire una sorta di legame con Anne. Punto. Ma i suoi sforzi furono vani, come spiegò Ingrid Seward, un'autrice reale, nel suo libro Prince Edward. Ha ricordato un incontro tra i due alla fine della settimana di Ascot nel giugno 1981, appena un mese prima che Diana sposasse il fratello di Anna, il principe Carlo. Ha scritto. Percependo l'apatia di Anne i suoi confronti e volendo ingraziarsi se stessa. Si avventurò fino all'asilo nido nella Queen's Tower dove Anna si stava sistemando con suo figlio Peter, che aveva tre anni, e sua figlia di quattro settimane, Zara. Diana, ancora solo una signora, ha fatto alla principessa il beneficio di un completo inchino e ha dichiarato. Signora, che meraviglia vederla. Anne disprezza le pretese nel migliore dei casi. Quando era alle prese con due bambini piccoli, non aveva tempo per tutto questo. Ha alzato lo sguardo su Diana e ha guardato attraverso di lei.